Il 27 luglio del 1907 nasce a Vicenza Guido Piovene, giornalista e scrittore. La fama di Piovene è legata soprattutto a alcuni grandi reportage di viaggio. Il primo è del 1953, intitola The America, ed è il racconto di una lunga attraversata attraverso gli Stati Uniti di 37.000 km che Piovene fece con la moglie. Ma l'opera certamente più importante di Piovene è Il viaggio in Italia, un racconto iniziato nel 1957 dell'Italia, del boom economico. Un libro importante di cui Indro Montanelli disse che avrebbe dovuto essere adottato nelle scuole italiane come libro di testo.